Denunciati due spacciatori, poco più che ventenni, sequestrato complessivamente oltre mezzo chilo di marijuana, hashish ed eroina dal valore di circa 5.000 euro. L'operazione, eseguita nel Pescarese, scaturisce dall'attività info-investigativa della Guardia di Finanza, eseguita nell'ambito del piano d'azione Drug Market dalla sezione mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e dal Gruppo Pescarese. E' quindi scattata la perquisizione nelle loro abitazioni, dove è stata rinvenuta altra droga, oltre a un bilancino di precisione e due telefoni cellulari. I due pusher, incensurati, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria locale per il reato di traffico di sostanze stupefacenti. I sequestri sono stati possibili anche grazie alla nuova fiamma gialla a quattro zampe, Lux, un pastore tedesco di 4 anni, appena arrivato dal Centro Allevamento e Addestramento Cinofilo della Guardia di Finanza nel Perugino, a Castiglione del Lago, che, fondato a metà anni 50, è il polo addestrativo e formativo delle unità cinofile del corpo, destinate all'impiego nei settori antidroga, antivaluta, antiterrorismo e ricerca di superficie. Le indagini proseguono attraverso un continuo e capillare controllo del territorio, al fine di ricostruire e disarticolare la filiera criminale di approvvigionamento e smercio della droga a tutela della salute e della sicurezza economico-finanziaria del territorio.